Buongiorno a tutti, allora, 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 tanto sto godendo che al fantacalcio mi segnano per ora tutti a me e non al mio avversario, ma comunque adesso mi mangio una bella prosciutto e fumi con sommo gaudio, normalissima, senza aggiunte, senza niente, ve la faccio vedere anche dall'alto così mi viene fame, perché la libidine di questi video è farvi venire fame, perché sennò non li farei, quindi spero di farvi venire tanta 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 e ancora tanta fame, naturalmente ve li caricherò con comodo, non adesso, ma più tardi, magari anche adesso, non lo so, vedrò, vedrò, magari ve li carico anche subito, così mi viene fame prima. Detto questo ragazzoni, io vado a papparmela e naturalmente ci vediamo alla prossima, ciao!